Ciao a tutti carissimi seguaci del nostro canale, prima di immergerci nei dettagli di oggi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella delle notifiche per non perdere neanche un contenuto interessante. Ebbene sì, oggi siamo qui per raccontarvi un momento gustoso che ha coinvolto Oriana Marzoli durante una cena di sushi presso Lozuma a Madrid. Oriana ha condiviso un'esperienza spensierata e piena di sorrisi durante questo appuntamento culinario, ma non è tutto. Ieri Oriana ha scelto di deliziare il suo palato in uno dei ristoranti giapponesi più rinomati di Madrid, Lozuma. Tra sapore intensi e atmosfera accogliente, Oriana ha trascorso un'esperienza culinaria unica con il sushi che ha conquistato il suo gusto, ma a noi sembra che Antonella Fiordelisi l'abbia contagiata. Secondo voi? Inoltre Oriana ha voluto condividere con tutti noi un dolce messaggio di auguri a tutte le donne pubblicando un post che include diverse foto di lei in compagnia delle sue amiche. E non è tutto, Oriana ha anche recentemente condiviso un nuovo e coinvolgente Reel. Cosa ne pensate di questo suo ultimo contenuto? Grazie per essere stati con noi oggi e aver condiviso questo momento leggero e gustoso con Oriana Marzoli. Lasciateci nei commenti le vostre opinioni su questa avventura culinaria e sul nuovo Reel di Oriana. E ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie e ci vediamo al prossimo video!